Allora, con i volontari stiamo liberando una stradina per prendere una signora che deve essere ricoverata in ospedale. Volevo cogliere l'occasione per lanciare un appello. Negli ospedali della Puglia non c'è più sangue sufficiente, perché i donatori non riescono ad arrivare ai centri di donazione. Voglio davvero chiedere a tutti quelli che possono arrivare ai centri di raccolta sangue di farlo rapidamente. Voglio ovviamente rivolgere un appello anche a tutti i militari, le forze dell'ordine, tutti coloro che possono dare una mano per aumentare il livello delle donazioni. Siccome lo stesso problema si sta realizzando, si sta verificando in tutta Italia, non possiamo neanche contare sull'aiuto delle altre regioni. Quindi serve uno sforzo particolare per tutti i pugliesi. Chi può si recchia i centri di donazione di sangue e ci dia una mano, per favore. Grazie ancora una volta. State combattendo benissimo questa battaglia contro la neve. Adesso serve quest'ultimo sforzo anche per il sangue. Grazie a tutti.